Andiamo a Venasca, nel Cuneese, dove è stata inaugurata una originale fabbrica del suono. Vediamo di che si tratta. Io sono il nobile suono. E io sono il rumore, il suono meno nobile fratellino. E la fantasia, sposata la didattica più divertente, il filo conduttore della fabbrica dei suoni, originale labirinto in cui perdersi e ritrovarsi, per scoprire il piacere della musica, aperto a Venasca, nella Cuneese Valle Varaita, in un'ex segheria, dopo sei anni di progetti e lavori, finanziati dall'Unione Europea e da numerosi enti. Non è una scuola di musica, non si viene qui per imparare a suonare uno strumento musicale, non è un negozio di dischi, non è una sala concerti e non è un museo. Sostanzialmente i ragazzi entrano fisicamente in un mondo magico in cui possono sperimentare con tutti i sensi, quindi non solo con l'udito, tutto ciò che sta dietro alla musica. Quindi partono dal concetto generale di rumore e arrivano finalmente al concetto di musica. Il tutto in modo assolutamente giocoso e divertente, quindi lontano dai canoni tradizionali di una lezione di musica. La fabbrica è stata visitata in anteprima da 2500 ragazzi, accolti dal cartone animato di Silvio Pautasso con le musiche di Enrico Sabena. Un ottimo rodaggio che ha decretato da subito il successo della struttura, che si annuncia con un murale safumetti di Giorgio Sommacale e Piero Lusso a conferma di come questa sia davvero la casa della fantasia.